Buongiorno, ti do il benvenuto in questo nuovo contenuto. Se è la prima volta che impatti e che ascolti il mio video, io sono l'avvocato Claudio De Fenu e sono il titolare dello studio legale tributario De Fenu, che ha sede a Roma, in via Deulada, numero 38, zona Piazzale Claudio. Poi in descrizione ti lascio tutti i miei recapiti. Anche oggi, come dico a seto, tratterò la materia condominiale e in particolar modo mi voglio soffermare sui balconi aggettanti. Allora, prima di tutto, cosa si intende per balcone aggettante? Il balcone aggettante è quel balcone che risulta essere un prolungamento esterno della proprietà, quindi che sporge dal perimetro della facciata condominiale. Quindi la differenza sostanziale che sussisse tra balcone aggettante e balcone incassato è che il balcone aggettante, come ti ho detto, sporge dalla facciata condominiale. Il balcone incassato risulta essere praticamente contenuto internamente al perimetro della facciata condominiale. Questo è molto importante perché, soprattutto in tema di ripartizione di spese, perché secondo una giurisprudenza consolidata ormai da, diciamo, qualche anno, le spese per il rifacimento e quindi per una manutenzione che sia ordinaria o straordinaria dei balcone aggettanti risultano essere tutte ad esclusivo carico della proprietà in cui il balcone appunto risulta essere un prolungamento esterno. Quindi quando si tratta di balcone aggettante e sussiste la necessità di eseguire una manutenzione che sia ordinaria o straordinaria, la relativa spesa non deve essere ripartita, prente, tra tutti i condomini su base millesimale, utilizzando, prente, la tabella A proprietà generali, ma la spesa deve essere, diciamo, in qualche modo accollata esclusivamente al proprietario appunto dell'unità immobiliare il cui balcone costituisce il prolungamento esterno. Perché vi ho fatto questa precisazione? Perché molto spesso vedo, praticamente, un po' per consitutire, un po' per non inimicarsi, praticamente, i condomini, che gli amministratori tendono, in qualche modo, prente, a ripartire le spese anche dei balconi aggettanti tra tutti i condomini. In realtà, come vi ho detto, non è una ripartizione corretta perché la relativa spesa deve essere, diciamo, in qualche modo sostenuta integralmente dal proprietario dell'unità immobiliare, il cui balcone non è altro che un prolungamento esterno della proprietà. Tuttavia c'è un caso specifico nel quale, invece, la relativa spesa può essere e deve essere ripartita tra tutti i condomini, ossia quando si tratta di intervenire con manutenzione ordinaria o straordinaria sulla parte interna o sulla parte esterna del balcone aggettante, che presenta però degli elementi decorativi che, in qualche modo, vadano ad arricchire l'armonia architettonica per ente dell'intero complesso condominiale. In quel caso, quelle parti, la manutenzione, quindi la relativa spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere ripartita tra tutti i condomini, utilizzando la tabella A, proprietà generali. Altro caso nel quale la ripartizione della spesa deve avvenire necessariamente su base millesimale, quindi tra tutti i condomini, utilizzando la tabella A, proprietà generali, è quando all'interno del regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero predisposto dall'originario costruttore, i balconi risultano essere inseriti come beni comuni condominali, quindi rientrano a far parte di tutti quei beni disciplinati dall'articolo 1117 del Codice Civile. Qualora infatti il regolamento condominiale di natura contrattuale, quindi come vi ho detto predisposto dall'originario costruttore dell'edificio condominiale, dovesse configurare i balconi come un bene comune condominiale, allora gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se si tratta di balconi che sporgono prente dal perimetro della facciata condominiale, la relativa spesa deve essere necessariamente ripartita tra tutti i condomini su base millesimale. Bene, spero che anche questo piccolo video sia stato di tuo interesse, se ancora non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti per non perderti e vedrete nessun video che andrò a postare nei prossimi giorni, sempre sulla materia immobiliare e condominiale. Ti auguro una buona giornata!